Parazioni sud di Trapani a secco per urgenti e non rinviabili lavori da effettuarsi nelle pompe di rilancio dell'impianto Bresciana. Da ieri è stata interrotta l'erogazione idrica. Disaggi potranno verificarsi anche in città per la minore portata di acqua in arrivo dai serbatoi di San Giovannello. Per l'emergenza ci si può rivolgere al servizio autobotti del comune di Trapani ai recapiti 0923 590 622 oppure 0923 590 364. Per le stesse motivazioni è stata interrotta anche l'erogazione idrica per l'isola di Favignana. La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro le prossime 24 ore. Sicurezza e legalità nella provincia trapanese. Questo è il tema al centro dell'incontro fissato con il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, dai rappresentanti di Cigelle e Cisleville insieme a quelli di categoria della Polizia di Stato. Secondo i dati in possesso delle organizzazioni sindacali, negli ultimi anni i reati commessi in provincia di Trapani sono cresciuti esponenzialmente. Al prefetto sarà chiesto il potenziamento del controllo del territorio, illustrando concretamente le possibili modalità attuative. Parliamo adesso di Birgi. Non è un addio ma quasi. Ryanair conferma il taglio delle rotte dell'aeroporto. Saranno 25 per l'estate del 2016. I vertici della compagnia sottolineano che non abbandonano lo scallo ma confermano anche i problemi. Vediamo. Non è un addio ma neanche una dichiarazione d'amore. I vertici di Ryanair confermano che almeno per il momento non abbandoneranno l'aeroporto di Trapani-Birgi di cui hanno fatto le fortune in questi ultimi anni. Di contro confessano che qualche problema c'è e che il rapporto con il vicino aeroporto di Palermo si sta rinsaldando. Un campanello d'allarme quindi di non poco conto di fronte alle continue voci che hanno avanzato l'ipotesi di un depontenziamento dei voli da Trapani per rafforzare la base di Palermo. Non abbandoniamo Trapani, afferma David O'Brien, chef commercial officer di Ryanair, ma c'è da dire che il futuro di Ryanair a Trapani dipende da Trapani, ha sottolineato a margine della conferenza stampa che si è svolta a Palermo per presentare la nuova programmazione estiva 2016 da e per il capoluogo siciliano. Trapani, ha aggiunto a Brienne, avrà 25 rotte, un terzo di quelle di Hetrow. In questo momento però la nostra attenzione è concentrata sul capoluogo regionale. Il rapporto con Palermo è molto costruttivo, su Trapani invece spesso ci scontriamo con politiche campanilistiche. La compagnia irlandese almeno per il momento rimane, ma da queste parole viene confermato che non vi è nulla di certo per il futuro. Intanto sono state confermate le voci che dicevano per l'appunto di unimente taglio delle rotte dallo scalo trapanese e così effettivamente è stato. Ryanair ha confermato i voli per Ancona, Bologna, Bratislava, Bruxelles, Charleroi, Cracovia, Cuneo, Eindhoven, Francoforte, Han, Genova, Karlslu, Baden, Kaunas, Malta, Memmingen, Milano, Bergamo, Parigi, Beauvoir, Parma, Pisa, Roma, Ciampino, Torino, Trieste, Treviso e Varsavia, Modlin. Risultano non più attivi quindi i collegamenti per Cagliari, Girona, Barcelona, Göteborg, Maastricht, Manchester e Perugia. Rispetto a questa decisione alcuni sindaci avevano protestato, primo fra tutti quello di ieri c'è Giacomo Tranchida, il quale si era detto indignato e sorpreso sulla questione. Il primo cittadino parlò di comportamento speculativo della compagnia irlandese che di fatto penalizza in maniera assai critica l'economia turistica della provincia trapanese. Financo, sostenuta dal mio comune, ha sottolineato Tranchida attraverso azioni di co-marketing promosse dalla Camera di Commercio di Trapani. Il problema è essenzialmente economico, inutile girarci attorno. La Ryanair attende ancora infatti che venga onorato l'accordo di co-marketing con tutti e 24 i comuni della provincia, sottoscritto lo scorso anno e per un triennio. L'accordo prevede lo stanziamento da parte degli enti locali di 2,2 milioni di euro l'anno, soldi necessari per trattenere Ryanair che un tempo erano garantiti dall'oramai soppressa provincia regionale di Trapani. Il problema è che ancora non sono stati versati da tutti i comuni le quote dovute al 2014 e nel 2015 lo scenario si è ripetuto ed anzi si è aggravato. Ci sono stati numerosi vertici alla Camera di Commercio, socio al 2% dell'Aergest, la società di gestione dell'aeroporto trapanese, per cercare di arrivare ad una sintesi e accelerare i tempi di liquidazione da parte dei comuni. Ad oggi però, a parte le solite promesse, non si è mai mosso nulla sul piano concreto. Ecco perché essenzialmente Ryanair sta tagliando le rotte. Prosegue la programmazione degli incontri di animazione socio-economica e approfondimento tematico sui trend di mercato del cicloturismo e del turismo subacqueo previsti nell'ambito del progetto cultura a stazione B del servizio di marketing territoriale organizzati dalla DMSRL, società di consulenza affidataria del servizio da parte del libero consorzio comunale di Trapani. Stiamo parlando dell'ex provincia regionale. I prossimi appuntamenti sono fissati a Marsala per giovedì 15 ottobre prossimo alle 9.30 presso l'ex convento del Carmine a San Vitolo Capo lunedì 19 ottobre alle 9.30 presso l'aula consigliare del comune a Mazzara del Vallo martedì 20 ottobre alle 9.30 presso la sala La Bruna dell'ex convento dei Gesuiti in piazza Plebiscito. Grandi preparative ad Alcamo per Fai Marathon, l'evento nazionale a sostegno della campagna di raccolta fondi. Ricordiamoci di salvare l'Italia. Venerdì sera Alcamo sarà nella puntata di Striscia alla Notizia che ripercorrerà le location visitate dagli inviati Brumotti e Magnifico. Saranno oltre 500 i luoghi aperti in 130 città in tutta Italia grazie a 3.500 volontari del Fai. Questi numeri di Fai Marathon 2015, l'evento nazionale a sostegno della campagna di raccolta fondi, ricordiamoci di salvare l'Italia, realizzato grazie alla partnership con il gioco dell'otto e per la prima volta affidato ai giovani del Fondo Ambiente Italiano. Domenica 18 ottobre saranno aperte le porte di palazzi, negozi storici, teatri, chiostri, angoli delle città a volte trascurati e poco noti. Tra queste città c'è anche Alcamo che venerdì per l'occasione sarà su Canale 5 all'interno del Tg satirico di Antonio Ricci lungo il percorso che hanno seguito i due inviati Vittorio Brumotti e Marco Magnifico giovedì scorso 8 ottobre. Il collaudato duo ha visitato il centro storico e le location che saranno aperti al pubblico domenica. Il giardino di Palazzo Rocca in corso 6 aprile, la biblioteca comunale Sebastiano Bagolino all'interno del collegio dei Gesuiti, prospicente Piazza Ciullo, la torre di Palazzo De Ballis in via Mariano De Ballis. Quest'ultima in particolare sarà aperta solo ai soci FAI e ai nuovi iscritti della giornata. Si tratta dell'unico itinerario in provincia di Trapani presente nel calendario degli eventi nazionali FAI, curato dalla delegazione del Fondo Ambiente Italiano di Trapani e dal gruppo di Alcamo. Questi luoghi, assieme ad altri del centro storico, ospiteranno per la giornata happening culturali di varia natura. Altri spunti per la visita libera sono costituiti dalle porte in bronzo della chiesa di Sant'Oliva, da Piazza Ciullo e dalla Cappella d'Orrizzo della Basilica Santa Maria Assunta. Collaborano all'iniziativa tra gli altri liceo classico Cielo d'Alcamo, liceo scientifico Giuseppe Ferro e il liceo Vito Fazio Almayer. We Architettura partecipa con il patrocinio del Comune alla realizzazione dell'evento, aprendo gli studi di architettura al pubblico e approfondendo uno dei temi proposti, il giardino, la biblioteca, la torre, luoghi di meditazione, secondo precise espressioni artistiche ed architettoniche. La biblioteca comunale di Paceco ha partecipato per il terzo anno consecutivo all'iniziativa di promozione della lettura Aiutaci a crescere, regalaci un libro promossa dalla libreria Giunti al Punto di Trapani ed ha ricevuto nei giorni scorsi 1680 libri per bambini e ragazzi destinati alle scuole del territorio che aderiscono al progetto tutti i volumi tra storie illustrate, racconti brevi, fiabi e romanze. Sono stati raccolti il scorso agosto, la clientela della libreria è stata invitata ad acquistare con uno sconto del 15% libri da donare alle scuole dell'infanzia e primarie con l'obiettivo di arricchire le biblioteche scolastiche. Per ogni volume donato gli acquirenti hanno ricevuto un'etichetta adesiva da porre sul retro di copertina del libro scelto per scrivere una breve dedica agli alunni. In questo modo sono stati raccolti i volumi, circa 400 in più rispetto ai 1296 testi consegnati alla biblioteca di Paceco con l'iniziativa dell'anno scorso per un valore economico di circa 12.300 euro. E parliamo invece adesso di sport, calcio, salta alla panchina di Corrado Mutolo, l'Alba, Alca, Mosilura, il tecnico e il richiama Riccardo Chico. Ieri pomeriggio ha già diretto il primo allenamento, la decisione scaturisce dall'incerto avvio di campionato dei bianconeri in eccellenza al servizio. Riccardo Chico, vecchia conoscenza della tifoseria bianconera e ormai da quasi 30 anni residente in città dove si è sposato ed ha avuto un figlio, è il nuovo allenatore dell'Alba Alcamo che milita nel campionato di eccellenza. Già ieri ha avuto un primo incontro con i giocatori e diretto il primo allenamento in vista della gara interna di domenica prossima contro la polisportiva Castelbuono. Chico, che già ha allenato in diverse occasioni l'Alcamo, ha preso il posto di Corrado Mutolo, licenziato assieme a tutta la sua staff. E' questa la conseguenza dei pessimi risultati con i bianconeri che in cinque gare hanno conquistato il misero bottino di sei punti e sono più vicini alla zona retrocessione che nei piani alti dove si prevedeva dovesse stare la squadra. Infatti la società, con largo anticipo, aveva allestito la squadra consentendo di effettuare una preparazione serena per presentarsi ai nastri di partenza del campionato con schemi di gioco abbastanza rodati. Invece la delusione è stata grande, tanto che a pagare, come succede sempre nel calcio, è stato l'allenatore. Ora si spera, con Chico, di risalire la china. Appare scontato che Riccardo Chico chiederà di rinforzare l'organico, magari incaggiando qualche suo fedelissimo come fa solitamente. Intanto sono sempre meno i tifosi sui gradini del Catella, qualche centinaio, che dimostrano purtroppo lo scarso interesse della città verso questo patrimonio di tutti. Il Consolato Provinciale di Trapani della Federazione Maestri del Lavoro, giovedì 22 ottobre, presenterà i Neo Maestri del Lavoro alle autorità civili, militari e ecclesiastiche alle associazioni del lavoro della provincia di Trapani. Si tratta di Mario Calafato, Baldassere Cammareri e Giovanni Battista Di Giovanni. La cerimonia si terrà al Palazzo del Governo di Trapani con inizio alle 9.30. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di Alpa 1 si chiude qui. Come sempre, grazie per l'ascolto. Adesso la sigla di chiusura del nostro notiziario. Subito dopo la rubrica clic curata, come sempre, dal professore Vincenzo Lucchese, ricordandovi che per ulteriori approfondimenti delle notizie che avete appena sentito nel corso del Tg potranno essere fatti attraverso il nostro sito internet www.alpa1.com. A risentirci.